Ragiona Imola di là con Ranuzzi che si gira e tira, sempre più difficile! Ranuzzi segna da ogni posizione! Aromando prova a battere il suo uomo, ma che canestro si è inventato Aromando! Stoppata Imperiale 2 da parte di Ogbeide, dall'altra parte ancora Ogbeide con l'assist di Johnson! Molto lini, vediamo come risponde Faenza, bella palla per Molinaro! 53 secondi su di lui, c'è Ali Begovic schiacciato sotto, per Dalmeida a due mani! Schiacciata a mostro e questa è showtime, puro al palatrica Alessandro Lombroni! Giocata Glamorosa! 57 secondi per la conclusione, 6 secondi Pollone, Pollone apposa il top-in! Vinete Adrian! Il top-in ha un secondo, Vinete Adrian! Pollison passa, time out! Perle Fratto Barroso! Ma made sure watch it! Il cœur normale perfetti nelейco! Ellicotton... Balla Spiacciata! È ancora l'ennesimo showtime da parte di Ogbeide! Spiacciata a due mani. Il giocatore è solo un gioco gioco.